ciao biker sono ritornato al circuito alle cave di vittorio veneto per farti vedere la pista completamente riasfaltata il tracciato in realtà non è stato modificato ma è altrettanto vero che adesso si possono fare delle traiettorie completamente diverse rispetto al mio primo video adesso un motore completamente originale yx 160 con la quarta corta quindi i rapporti passano da 16 41 a 16 39 presta attenzione alle differenze di cambiata nei vari giri l'ho fatto apposta per far vedere come si possano utilizzare sia l'uno che l'altra indistintamente quindi in una bellissima giornata di novembre con 25 gradi sull'asfalto montiamo in sella e andiamo a divertirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.